Caldaie a condensazione, le migliori sono da Leroy Merlin Le caldaie a condensazione di Leroy Merlin offrono un risparmio fino al 30% sui costi energetici grazie alle loro tecnologie avanzate. Scegli tra modelli Ariston, Ferroli e Savio per rinnovare il tuo impianto di riscaldamento con un'installazione semplice e sicura. Moderne, eleganti e facili da usare, queste caldaie sono compatibili con impianti solari e si inseriscono perfettamente in ogni casa. Scopri le caratteristiche delle migliori caldaie a condensazione dall'E Leroy Merlin ideali per riscaldare in modo efficiente e conveniente.